Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di The Sims 4 ASMR Ita. Oggi continueremo con i nostri episodi. Vi volevo dire che ho trovato, se sentite i rumori, è la sedia che fa un po' di cicli ogni tanto. La sedia in cui sono statuta, dicevo che sono riuscita a risolvere il problema del rumore del mouse, perché mi è stato dato in prestito questo mouse che in sostanza non fa quel dettivo che poteva risultare un po' disturbante. In ogni caso, comunque, direi di continuare per seguire con la costruzione della cucina. L'ultima volta mi sono accorta che queste due parti della cucina non hanno lo stesso coloro di quella sotto. Quindi ora proviamo a vedere se troviamo qualcosa che sia vicino il più possibile, ok? Forse è una maniera più corta. Questi dovrebbero essere più simili possibili, quindi direi di lasciare questi. Poi, mi sono ricordato che comunque ci sono ancora un sacco di cose da mettere, del tipo che ci manca la cucina, quindi adesso devo subito vedere la cucina. Allora, come cucina mi piacciono quelle moderne, devo dire la verità. E qua non ce n'è mai nessuna che mi piace, sinceramente, è detta proprio sinceramente. Anche perché comunque in questa cucina ci sarebbero bene quelle più moderne possibili. Forse questa potrebbe essere quella più azzeccata, ecco. Però, non so di che coloro è l'entrata, dobbiamo togliere il mobile. Direi di magari farlo qui nel fornello, così poi possiamo mettere la cappa. Quindi andiamo. Lo mettiamo giallo. Oppure bianco, forse ci vede un po' meglio quello bianco. E c'è un ragno qui davanti a me, credo che venga da subito, ma come diavolo c'è arrivato fin qua. Era super piccolo, proprio piccolo piccolo. Mi sono ben accorto che mi mancano dei soldi, fantastico. Ok. Torniamo in noi. Allora, dopo questa cucina, io direi di pensare al frigo. Dove potremmo metterlo nel frigo, perché io sto pensando sempre qua, però mi dispiace. Beh dai, però possiamo anche venderlo. E cercare un frigo alla nostra portata. Allora, vediamo. Mi sono sempre piaciuti quelli tipo di visite due, come questa. Che ovviamente hanno fatto. O la allunghiamo. Vediamo. No, aspetta che chiudo di questa. Potremmo forse allungarla tipo di un pezzettino, così. Non credo sia brutta come cosa, quindi poi la possiamo provare. Ma qui non ci sta lo stesso frigo. Vediamo sull'altra di un altro pezzettino. Però mi sembra un po' tabella. No, forse no. Forse no, dai, non è così male. Allora. Non so, il frigo qua non mi soddisfa particolarmente, però intanto possiamo lasciarlo. E comunque, qua io ce lo metterei lo stesso, bisogna rimanere un buco. Ok. Allora manca comunque la cappa. La cappa che... Vediamo. Comunque la potremmo fare più con... Oddio, sono... No. Queste sono troppo alte. Mi arriva di fare sempre la solita. Io alla fine uso sempre questa. Facciamo bianca. E, ok. Poi manca il lavandino. Come lavandino, intanto io non piaceva sempre farlo qua, ma non credo che stia bene. Però possiamo provare. Eh, lo lascio lì. Però lo possiamo mettere magari su queste due finestre, perché il fatto che questo così è molto buono, la sera non è male. Quasi, quasi. Poi ci manca... La pastiglia. Potremmo farla tipo sull'arancino. Eh, non sta male. Non sta mica male, però la farei di qua. Sull'arancino, così riprende un po' il colore, tipo, del lavandino. Dai, non sta troppo male. Non è brutta come cucina, fatemelo sapere. A me non sembra, dai, a parte sempre questa cosa qui. Poi, prendiamo anche un microonde. Non è mai piaciuto questo qua. Vediamo se è tra questi. Perché sono tutti grigli. Questo qua è l'unico marroncino, però non mi ispira particolarmente. Non mi sembra molto affidabile, quindi io direi di stare tra questi. Magari lo prendiamo bianco. E lo mettiamo lì. Sì. O forse lo vediamo se con altro lo siamo. No. Ce lo vedo meglio qua. Poi prendiamo l'orilevo, sempre questo, che comunque è coordinato con l'altro. E ha tuttotto, sia qualità, sia riedabilità, quindi è sempre bianco. Mettiamo qua. È sempre bilico. Ok. Comunque ricordiamoci che c'è anche questo spazio qua. Questo spazio qua. Però non so perché cosmetterci. Possiamo otterci qualcosa che riguardi il tè, magari. Cioè, no, magari queste sono le magie del tè, che poi è l'unica che c'è. Quindi direi che fa più che vuole. È sempre bianco anche questo. Ok. Poi andrei, tra queste qua, a mettere il tè un po'. Andiamo a questo. Sì, che carino. È super carino. Poi abbiamo abbastanza spazio, direi. Mettere lì. Mettiamo qua. Così. Dai, che carino. Ok. Mettiamo anche qualcosa sui muri. Lascio qualche spazio vuoto, così se... Comunque bisogna cucinare così, almeno, perché spazi c'è. Anzi, direi quasi, tipo, di spostare questa qui. Così ci sono anche questi due spazi qua per cucinare. Sì. Il problema è che qua ci sono le scale e qua c'è la porta. Quindi è un po' improbabile riuscire a mettere un albero. O che lo mettiamo nella sala da pranzo, cosa forse più è fattibile. No, perché l'ho visto prima e mi è venuto voglia di mettere un albero. Però, cioè, non si può, cioè, non sarebbe stato bello qua forse, però ci sono le scale per il problema. Vediamo. Cioè, quanto sarebbe stato carino qua. Forse un po'... Un po' incasinato, forse. Sì. Vediamo, sì. Se noi spostiamo questo, lo mettiamo lì. Questo comunque, secondo me, non ci sta. Perché ci sono le scale. Sarebbe stato bello anche qua. Però la porta... Eh, la porta... A meno che non le facciamo proprio una minuscola. Aspettate, vediamo un attimo. Se noi mettiamo un attimo... Vabbè, rendiamo quella massimo la rimetto. Qua ci starebbe, vedete. Sarebbe super carino. Ma se noi mettiamo tipo una porta, no? Una porta sola, così. Ci va comunque nell'altra stanza. So che è un po'... Stremizzita come cosa, però... Dai. No, però qui è proprio bello. È una bella posizione. Farò questo sacrificio. Mettiamo anche un po' di illuminazione, io direi, perché manca abbastanza. Mettiamo questa illuminazione qui. Che dici? Non lo so, non lo so, non lo so. Stavo pensando che è anche un po' d'aria, io non li metto mai, non lo so. Però, visto che siamo qui ed è una casa un po' moderna e un po' no, perché no? Io direi... Questo è abbastanza carino. Poi ci metterei anche un'illuminazione invece da muro. Quella che avevo preso prima. La mettiamo qua per le scale. Ah, non ci sta. La mettiamo qui. E qua ci metterei anche una piantina, tipo qua. È non troppo grande, una piantina tipo così. Dai, non sta troppo male.